Avete visto? Non per continuare a dirvi ve l'avevo detto, ma ve l'avevo detto. L'avete visto il mio primo video di ieri, quello di mattina, di mezzogiorno, centrocampo top? Adesso non ve lo voglio far vedere tutto perché dovete andare a recuperarvelo, ok? Ma vi faccio vedere di quale si tratta. Questo qui, centrocampo inter fra turnover e principi tattici. Eccolo qua, questo. Questo qui. In questo video che io vi invito a guardarvi, eccolo qua, vedete? Questo, centrocampo inter di ieri, andatevelo a prendere. Io dico una cosa molto semplice, cioè che l'Inter, per il gioco che ha installato Simone Inzaghi, non è una squadra che punta sulle individualità. punta su una serie di scambi posizionali fra i calciatori, quindi il calciatore A che scarica la palla al calciatore B e che si butta in profondità. O il calciatore A o un terzo calciatore, il calciatore C, che si chiama il triangolo lungo alla ricerca del terzo uomo. Per fare questo, quindi, tutti i calciatori si devono muovere quando danno la palla. Dai la palla e vai. Il cosiddetto dai e vai e ti muovi. Questo ieri non è stato fatto. Perché io vi dico nel video di ieri, che vi ho appena citato, che la formula giusta è massimo fare un cambio a centrocampo, in realtà anche in difesa, ma soprattutto a centrocampo. Perché se uno dei tre titolari, che sono i più bravi a fare questa cosa, cioè a dare la palla e poi ad andare, a muoversi, a fare determinati movimenti tattici, se uno fra Barella, Ciala e Michi non c'è, lo senti ma non tantissimo. Se già due di loro non ci sono, lo senti troppo. E ieri l'Inter l'ha sentito troppo. Ciala e Barella non c'erano tutte e due, c'era solo Michi. Aslani e Frattesi non sono Ciala e Barella. Con tutto che io sono il primo che dice che Frattesi soprattutto deve giocare di più. Ma ecco, metti Frattesi, come vi ho detto nel video di ieri, ci devono essere Ciala e Michi. Metti Zerischi, ci devono essere Ciala e Barella. Metti Aslani, ci devono essere Barella e Michi. Non più di un cambio per reparto. Anche in difesa, ragazzi, ieri, con tutto che Carlos Augusto poi ha fatto l'assist, però quando manca Bastoni si sente da morire. Perché Bastoni non solo c'è il cambio di campo, c'è il lancio lungo dall'altra parte a pescare l'esterno. Cosa che Carlos Augusto non sa fare perché non ha quel piede. Ma soprattutto, quando Bastoni dà la palla, la dà magari a Di Marco che è davanti a sé, o all'interno, alla mezza della sinistra, cioè a Michi, poi si buttano avanti con una qualità che Carlos Augusto non ha. La stessa cosa a Cerbi in marcatura. Ora, è vero che il gol che prende l'Inter c'è Pavard che viene sovrastato a Danimota. Ma state tranquilli che a Cerbi magari lì andava a chiudere anche lui. E Danimota magari quel gol non lo fa. Questo è più difficile, però è anche un'opzione. Quindi anche in difesa non c'è Bastoni, ci devono essere la Cerbi e Pavard. Non che non c'è Bastoni e non c'è manca Cerbi, come ieri. Perché poi Carlos Augusto e De Frai non sono la stessa cosa. Un cambio per reparto puoi fare. E infine veniamo all'attacco. Turam e Lautaro, ragazzi, uno ne puoi togliere. Nel momento in cui li togli tutti e due, e ieri in partita a un certo punto li hai tolti tutti e due. Perché prima hai tolto Lautaro e poi hai tolto anche Turam. Non esiste. Non esiste. Perché sono i due riferimenti che hai. Visto che tutti i giocatori si muovono in continuazione, gli unici veri riferimenti dell'Inter sono Turam e Lautaro. Se tu li togli tutti e due, non ci sono più riferimenti. Perché nessuno di voi pensi che Taremi può fare già il riferimento come lo fanno Turam e Lautaro. E comunque Taremi è forte. Immaginatevi gore a Arnautovic. Il gol che facciamo ieri con Don Fris che arriva. Se Arnautovic non c'entra avanti però il gol lo deve fare lui. Solo che arriva in ritardo. E poi, meno male, la butta dentro Don Fris. Queste sono cose, ragazzi, che poi paghi. Sono già altri due punti persi. Quindi io con tutto che spingo per il turnover, ma uno per il reparto. Quindi, ergo, non possiamo cambiare più di tre, massimo quattro uomini se consideri l'esterno destro Don Fris ad Armiano. Quindi un cambio in difesa. A centrocampo dei tre un cambio. Sugli esterni un cambio. In attacco un cambio. Massimo quattro cambi. Non possiamo permetterci di più. Perché non reggiamo. Neanche col Monza. Ieri la cosa preoccupante non è stato il pareggio. È stato come è venuto il pareggio. Il pareggio è venuto, ragazzi, senza che tu possa andare a recriminare o dovevo vincere perché ho fatto sei milioni di azioni gol. Assolutamente no. Tu non hai fatto così tante azioni gol. Ne hai fatte pochissime. Tanto è vero che i diri in porta che fa l'Inter sono due. Esattamente come il Monza. Non possiamo dire che abbiano rubato nulla. Va qua le statistiche. Tiri totali 16 a 5, è vero, ma poi in porta sono due a due, ragazzi. È vero, 61% è il processo di palla contro 39, ma il processo di palla è lento. Perché è lento? Perché Aslani non è Cialanolo a far girare la palla e perché i movimenti fatti da Barella non sono gli stessi fatti da Frattesi. Per quanto Frattesi sia, probabilmente è più bravo a inserire e assegnarsi. E assegnare, scusate. Ma Barella, l'intelligenza tattica che ha, altrimenti titolare sarebbe Frattesi. Quindi non possiamo fare un turnover di due giocatori per reparto come ieri. Lo puoi fare di uno per reparto. Questa è la lezione che io mi auguro che il Demone di Piacenza abbia imparato. Con in più, mi dispiace dirlo, perché sto per dire una cosa brutta, perché comunque Aslani è un ragazzo bravo, anche tecnico, che si impegna, ma nel momento in cui non dovrà giocare Ciala, perché dovrà riposare Ciala, non so se si può ancora sperare di mettere lì Aslani. C'è Zerischi che nella Polonia fa quel ruolo, in quel ruolo volendo può agire anche Mkhitaryan, volendo può agire anche Barella. Ragazzi, noi non possiamo perdere punti, non si può guardare in faccia a nessuno. Aslani si è bruciato una marea di possibilità, tutte le volte che è stato chiamato a fare il titolare, poi non ha reso. Quindi questo è un qualcosa che va assolutamente tenuto in considerazione. A lui erano fatta la domanda, Inzaghi, ma non vedi Zerischi in quel ruolo, gioca nella Polonia? Le ho detto no, Zerischi lo vedo mezzare, e poi in quel ruolo Fra Ciala e Aslani siamo coperti. È ovvio che non lo può dire alla stampa bocciare così Aslani davanti a tutti. Questa è una cosa che farebbe solo un conte qualunque. Il nostro Simone non la fa, però poi all'atto pratico forse è il momento di pensarci. È il momento di pensarci. perché ragazzi, non si possono più regalare punti. Detto che non è colpa sua, non mi è piaciuto neanche De Frai, che ha perso una marea di duelli con Djuric. Anche lì, l'anno prossimo, ragazzi, sul mercato bisogna assolutamente intervenire con un difensore centrale puro, per forza. E soprattutto, ragazzi, non voglio più vedere insieme in campo Corea Arnatovic. Forse solo in Coppa Italia neanche. Sono due giocatori inguardabili ormai. Una roba scandalosa. Scandalosa. Quindi, questo è il mio pensiero su tutta la storia turnover, ma voglio sapere il vostro. Quindi, innanzitutto, mettete un bel like. Like, 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 pollicione, pollicione al video, mi raccomando. Dopodiché, iscrivetevi al canale. Toccate prima su iscriviti, subito dopo sulla campanella, selezionate tutte, in modo che vi arrivino le mie notifiche di quando faccio i video o di quando faccio i live live che faremo stasera a Monar Calcio. Sapete il nuovo format che va in onda ogni lunedì. Dove commenteremo la Serie A con ospiti. Ci sarà l'amico Gianni Bianco, non so se arriverà anche Nick Barese, Rosso Nero e altri, poi i soliti riconoscete, Chris, Sally e tutti quanti. Quindi, vi aspetto alle 21 dove commenteremo la giornata di Serie A appena conclusa. Mi raccomando, vi aspetto e soprattutto iscrivetevi al canale, fatelo per i dei dell'algoritmo di YouTube e fate iscrivere i vostri amici. Quindi, vi aspetto nei commenti così date valore a questo video. Il nostro solito salute latino vid te mox. Forza inter sempre. Grazie. Grazie.